Bentornati a Trame Raccontate Male, oggi vi racconto male, malissimo, Andrea Chigny. Parigi, fine 1700, la rivoluzione francese sta avanzando, ma una buona parte della nobiltà non se ne è ancora resa conto. Servitore di una di queste famiglie troviamo Gérard, che soffre particolarmente la sua condizione di sottomissione ai suoi datori di lavoro. La mia famiglia siete voi poveracci! Fosse per lui li manderebbe tutti alla ghigliottina. Tutti. Tutti tranne la contessina Maddalena. Che inspiegabilmente salverebbe. Chi invece alla ghigliettina manderemmo ben volentieri anche noi è la mamma della contessina, la contessa Serbelloni mazzanti vien dal mare. Personaggio di rara antipatia e con uno spiccato senso di equità sociale. I miei cari inferiori! Imperfetto sia il radical chic, si gode di massima spensiatezza e si ammazza al tempo, come? Con una grande festa nella villa in collina dei conti Serbelloni mazzanti vien dal mare. Tra gli invitati troviamo il poeta Andrea Chenier con un frac preso a nolo. Tutti si lamentano dei tempi che stanno vivendo e i giovani non hanno più rispetto e oggi giorno nessuno più vuole lavorare, è tutta colpa del rete di cittadinanza. La contessa infatti dice dove andremo a finire? Sulla ghigliottina, credo. In questa cornice Andrea Chenier fa uno sproloquio, anche abbastanza banalotto populista, diciamocelo, sui privilegi delle classi agiate. Dopodiché prende un'altra tartina al caviale. Nella sua invettiva non salva nessuno, tranne, indovina un po', la contessina Maddalena. Infatti pur non conoscendola per nulla, le dice «Sol l'occhio vostro esprime umanamente qui un guardo di pietà». Oh, pur di scoprire noi uomini diremmo qualunque cosa. Tutti sono seccati dall'intervento di Chenier, che nel frattempo sorseggia un altro champagne. E lo evitano come si fa con un creditore. Gérard, forse galvanizzato dal discorso di Chenier, fa entrare nel salone della festa tutto il cast di Les Miserables, in cerca di un boccone e di qualche soldo. In tutta risposta la contessa serbenoni mazzanti caccia via tutti in malomodo e licenza in tronco Gérard, senza preavviso nei TFR. Il bello della contessa è che è convinta anche di essere una persona generosa, dato che, dice, «Tutti i giorni facevo l'elemosina». Perché io, come ben sapete, amo molto i pensenti. Secondo atto, è passato qualche tempo, la rivoluzione c'è stata e siamo in pieno regime del terrore, durante il quale a Parigi erano più le esecuzioni capitali che si facevano delle baguette che si spornavano. Gérard ha fatto carriera ed è diventato un funzionario del regime. Chenier, invece, che era partito bene, è visto male i dei rivoluzionari ed è costantemente pedinato da spie che lo tengono d'occhio. D'altronde, a quei tempi bastava una parola per finire sulla lista nera del boia e in città c'erano più delatori che topi. Alle calcagne di Chenier c'è un incredibile. Chi erano gli incredibili? Ve lo leggo da Wikipedia. Gli incredibili sono esponenti di una moda caratterizzata da un lusso estremo, ostentato e da stravaganze esibite nell'abbigliamento. Li abbiamo anche oggi, li chiamiamo rapper. Piccolo anacronismo. Gli incredibili, storicamente, arrivarono dopo la morte di Robespierre. Nel momento in cui, invece, si svolge l'opera, Roby è ancora vivo e vegeto e in piena attività. Chenier, dicevamo, è pedinato e una misteriosa e anonima donna gli scrive delle lettere. L'attrice di queste lettere è Bersi, che lavorava al servizio dei conti Cerbelloni-Mazzanti-Vien dal Mare, nel primo atto. Chenier, tuttavia, è poco fisionomista e non ricorda di averla incontrata a tempo prima a casa Cerbelloni e non la collega quindi a Maddalena. Gerardo, nel frattempo, come detto, è diventato un rivoluzionario e usa il sopraccitato incredibile per rintracciare la contessina Maddalena di cui era già invaghito quando era al suo servizio e della quale è ancora innamorato. Per aiutare l'incredibile a trovarla, gliela descrive. Azzurro occhio di cielo, bionda la chioma con riflessi d'or. Guarda, praticamente me la vedo davanti. Cioè, una francese bionda con gli occhi azzurri, capirai, ne vostro poche. Gerardo non lesina particolari per aiutare l'incredibile a rintracciare Maddalena. Gli dice, infatti, che un giorno l'ha vista e che aveva una cuffia bianca sulla testa. Vabbè, come non trovarla con si fatti dettagli. Parliamo ora di Maddalena. Durante la rivoluzione le hanno ucciso la madre antipatica. Lei è scappata con Bersi, la quale, per sostentare entrambe, esercita professioni millenaria. Bersi, si capisce, mica la contessina, eh, vorrà mai che si sciupa. Maddalena, quindi, tramite Bersi, rintraccia Chenier per chiedergli aiuto. Ma lui, sulle prime, neanche la riconosce. Aspetta, dov'è che ti ho già visto? Però ve l'avevo detto che non era fisionomista, eh. E qui abbiamo un capolavoro del libretto. L'incredibile li vede insieme e capisce immediatamente che quella donna bionda è proprio quella che sta cercando Gerard. Ma perché? In base a cosa? Cos'è l'unica donna bionda di Francia? Corre quindi ad avvisare Gerard. Maddalena, nel frattempo, invece, chiede a Chenier di proteggerla e di aiutarla. E poi, comunque, fa la spocchiosa dicendo non temo alla morte. Beh, sorella, deciditi. Arriva Gerard che sa bene come conquistare una donna. Infatti, appena vede Maddalena, la prima cosa che le dice è a guise di notturna io vi ritrovo. Cioè, in pratica, le dà della FUTTA! Ne segue una colluttazione fra Gerard e Chenier al termine della quale Gerard resta ferito. Ma tuttavia fa fuggire Chenier avvisandolo oltretutto che il suo nome è finito sulla lista nera dei nemici della rivoluzione e che quindi a breve lo arresteranno e che lo aspetta un giusto processo in perfetto stile cardassiano. Non c'è niente a cui dobbiate prepararli. La sentenza contro suo marito è già stata emessa. È colpevole. Terzo atto. Durante una campagna di crowdfunding per finanziare la guerra una vecchia e cieca che ha già perso il proprio figlio e uno dei due nipoti nei morti rivoluzionari dona l'altro nipote l'ultimo che è rimasto all'esercito. Gerosa. Chenier intanto è stato arrestato e l'incredibile suggerisce a Gerard di diffondere la notizia del resto così da attirare Maddalena. Una specie di esca. Gerard è titubante perché teme che questa mossa lo farà odiare da Maddalena. L'incredibile ora gli suggerisce una perda di saggezza e una dose di pragmatismo tipicamente maschile. Gli dice infatti nella femmina vi sono il corpo e il cuore. Tu scegli il corpo è la parte migliore. Dopo 30 secondi netti Maddalena si presenta al tribunale. Gerard perennemente indeciso tra l'amore per Maddalena e una tavica voglia di possederla le dice e se fosse un'ora sola un'ora sola ti vorrei io voglio qui lebrezza e dei tuoi occhi profondi. Sì sì proprio gli occhi interessati. Siamo qui a un passaggio classico dell'opera lirica cioè lei che si concede a lui per salvare l'amato. Gerard però non ne approfitta anzi le promette di cercare di salvare Chenier. E anche tu però decinti eh. Arrivano gli accusati. Maddalena vede Chenier e in un moto di eccessiva considerazione di se stessa esclama egli non mi guarda ah pensa a me no pasticcino non pensa a te pensa che sta per crepare. Inizia il processo cardassiano. Il processo riprende il colpevole si avvicini e testimoni. Chenier si difende in maniera accorata e sincera. L'accusatore allora facendo di far entrare i testimoni. Avanti l'odesta valandario. Parla Fimmina senza che nessuno te ne faccia obbligazioni. Ma prima che l'accusa prosegua Gerard si fa avanti in difesa di Chenier anzi confesse di aver addirittura falsificato gli atti dell'accusa. Serve a poco Chenier è comunque condannato a morte. Finale Maddalena corrompe una guardia con un sacco di gioielli oro e denaro che ne saranno costate di fatica alla povera Bersi e si sostituisce a un'altra condannata per morire con l'amato Chenier che poi non poteva usare quei soldi per colompere la guardia e farlo scappare e basta. No. Se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale attivando la campanella se il video vi è piaciuto lasciate un like che lasciate un commento e noi ci vediamo alla prossima trama raccontata male.